Dal Vangelo di Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro, pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso, mio Signore, mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Buona domenica, seconda domenica di Pasqua, la domenica in albis, dal bianco delle vesti che indossavano coloro che erano stati battezzati nella domenica precedente, e domenica anche della Divina Misericordia, e questo da quando Giovanni Paolo II fece questa scelta di chiamare così questa domenica seconda di Pasqua, cioè la domenica immediatamente successiva alla domenica della Pasqua di Rissurrezione. Ascoltiamo sempre in questa domenica dal Vangelo di Giovanni il brano dell'apparizione di Gesù ai discepoli che avviene due volte, una prima volta all'assenza di San Tommaso Apostolo e una seconda volta ancora otto giorni dopo con Tommaso presente, un brano molto famoso che abbiamo ascoltato tante volte. Proviamo oggi a focalizzare la nostra attenzione su un binomio che è presente in questo brano, e questo binomio è porte chiuse ferite. Su questo binomio qua, porte chiuse e ferite, che sono due cose che ci sono molto presenti noi in questa parola che abbiamo ascoltato. Ecco, Gesù ci viene detto dal Vangelo, sia la prima che la seconda volta, entra laddove sono riuniti i discepoli a porte chiuse. I discepoli sono, dopo la morte di Gesù, a porte chiuse. Per paura dei giudei, ci dice il Vangelo, cioè sono a porte chiuse perché devono proteggersi da qualcosa, da un pericolo. E il Signore, nonostante questo, entra a porte chiuse e dice pace a voi. Certamente l'esperienza delle porte chiuse è un'esperienza di questi giorni, chiaramente, che stiamo facendo di non poter uscire, però non mi fermerei oggi all'aspetto delle porte chiuse legato a una porta fisicamente chiusa e alla impossibilità di uscire. Ma proviamo a fermare la nostra attenzione sulle porte chiuse come situazione di vita, come situazione esistenziale, come un modo a volte di vivere in cui possiamo trovarci, perché possiamo essere persone che hanno tutta la libertà del mondo di uscire e magari si muovono con tanta libertà, vanno ovunque, incontrano gente, eccetera, ma la nostra vita è comunque a porte chiuse. C'è un vivere a porte chiuse che non ha niente a che fare con una serratura o una porta o una finestra, semplice o blindata che sia, aperta o chiusa che sia. Perché le porte chiuse spesso sono quelle con noi stessi e quindi di conseguenza con le nostre relazioni, nelle nostre relazioni. Noi possiamo avere nel rapporto con noi stessi e di conseguenza anche nelle nostre relazioni delle porte ermeticamente chiuse. E questa esperienza può essere con noi stessi e in noi, oppure possiamo viverla in una relazione con qualcuno vicino a noi. L'esperienza che le porte di una persona siano chiuse, almeno alcune porte, che ci sono degli spazi in cui non si entra. E questa cosa qua, partiamo da noi stessi, quando è che ci capita? Ecco, arriviamo al binomio, porte chiuse e ferite. Le porte chiuse corrispondono fondamentalmente con le nostre ferite, con una ferita che ci fa ancora tanto male, con qualcosa che continua a sanguinare, che ci ha veramente addolorato e che non è sanato, non è pacificato, non è risolto ed è un dolore ancora troppo grande da poter guardare, da poter vivere o rivivere. E allora dobbiamo cercare di metterlo in una stanza, chiudere quella porta e avvicinarci il meno possibile, guardarlo il meno possibile, cercare anzi di non pensarci di dimenticarlo. E questo non potrà non avere un risvolto anche nelle nostre relazioni, perché non possiamo neanche far entrare qualcuno là dentro, perché far entrare qualcuno in quel dolore significa che io dovrò accompagnarti, dovrò portarti con me e quindi dovrò a mia volta rivederlo, rileggerlo, rifarlo emergere e non ce la faccio, perché è ancora troppo grande. È una protezione anche questa. Ecco qua, anche queste sono porte chiuse per proteggerci in fondo, perché quella cosa lì è talmente dolorosa che se la ritiro fuori mi devasta, mi fa stare troppo male. Possiamo aver vissuto o vivere adesso questa esperienza e ci potrà capitare in futuro e possiamo esserci proprio ritrovati in questo. E le cause possono essere le più varie. La perte di una persona cara, la morte di qualcuno, magari quando questa è accaduta prematuramente, quando non te l'aspettavi. E allora ecco che non riesci più a prenderla in mano quella cosa, ma comprensibilmente che fa troppo male e questo influisce anche il tuo modo di stare al mondo. Magari c'è una vena di pessimismo, una vena di malinconia, una vena di delusione, di disillusione, di perdita di speranza. Oppure, che ne so, un tradimento. Un amico ti ha tradito, non te l'aspettavi. Un marito, una moglie, un fidanzato, una fidanzata ti hanno tradito, ti hanno fatto un male veramente grande. E ecco che le tue relazioni, anche i tuoi affetti, il tuo modo di amare non è più quello di prima. Non ti fidi più, non riesci più. C'è un meccanismo di difesa, di protezione di te stesso perché ti hanno fatto un male troppo forte e allora la corra di bruciarsi di nuovo è troppo grande. E le porte si chiudono. Oppure questo può essere dovuto, che ne so, al rimorso di un errore fatto, di una scelta sbagliata, di una colpa che hai commesso e che sta sempre lì a metterti sotto accusa che non riesci a perdonare, che non passa, non passa mai. Allora chiudi le porte, chiudiamo le porte. Non ci voglio entrare io, non ci posso far entrare neanche te perché se no dobbiamo riparlare, dobbiamo rimetterla al centro, questa cosa è troppo, troppo, troppo dolorosa. Ecco le ferite chiudono le porte. E questo ci può capitare, ci può capitare anche nei confronti, magari ci può capitare di vederlo in qualcuno vicino a noi. Scoprire davvero che qualcuno vicino a noi si è chiuso e si è creato come un guscio intorno a lui, che può essere su tutta la persona o su qualcosa in particolare. Un guscio inscalfibile, in cui non si entra, è infrangibile. C'è uno spazio in cui tu sai che quella persona sta male, più o meno grande che sia, e tu non ci puoi entrare perché non ti fa entrare. Non trovi un pertugio, un passaggio, una finestra, uno spiraglio, è tutto chiuso, è tutto sigillato. A volte senti, no, qualche marito, qualche moglie che ti dice, mio marito, mia moglie è chiuso in questa cosa, non parla mai, non la tira fuori, la tieni tutta in sé, ha un dolore, io lo so che ce l'hai, non ne parla. Magari proprio, magari dici anche, è sempre stato così, no? E questa cosa fa soffrire tantissimo che sta fuori, perché è una persona che è amici, vorresti fare qualcosa, vorresti provare anche solo ad ascoltarla, ma le porte sono chiuse, letteralmente chiuse. E a volte questo lo vediamo voi genitori, magari con un figlio, questa cosa è micidiale, fa soffrire tantissimo noi con i ragazzi, perché cerchiamo di educare, no? Vedi a volte questi ragazzi che sono chiusi in un guscio e non sai da che parte entrare, non sai come aiutarli, non ho una parola, non c'è il verso, è capitato, è capitato, penso al mio adulto è capitato, o potrà capitare. E questa cosa ti fa paura, fa paura perché ti fa sentire estremamente impotente, non sai che cosa fare, e hai paura perché non la controlli e dici che cosa potrà succedere adesso, no? Veramente, quel dolore dell'altro tu non puoi neanche avvicinarti e quindi dici, e come va a finire? Ci riprenderemo, si riprenderà. È un'esperienza veramente dolorosa, no? Ecco, le ferite chiudono le nostre porte spesso. Nel Vangelo arriva Gesù e dice, pace a voi, lui entra anche a porte chiuse, ed è l'unico che può farlo. Pensiamo alle porte in questo senso, alle porte della nostra vita, queste qui che ci portano a quella verità dolorosa di noi stessi, che noi abbiamo sigillato, che ci aprono le relazioni con gli altri, no? Lui entra anche, nonostante le nostre porte chiuse, a portare la pace, che è il primo vero dono del risorto. Il risorto viene a pacificare, a portare la pace più profonda. E guarda caso, che cosa fa Gesù? Mostra le ferite sue agli apostoli, mostra le sue ferite, e lo fa sia la prima volta quando Tommaso non c'è, sia la seconda volta quando c'è anche Tommaso. E Tommaso stesso dice, io voglio vedere le ferite per crederci, non voglio vedere altro se non le ferite. È molto bella questa cosa, e Gesù viene a ferite aperte, spalancate, e la prima cosa che fa, che dice, dopo aver detto pace, guardate le mie ferite, guardate i segni dei chiodi, guardate il costato, no? Mostra le sue ferite, e dice, venite, metteteci le mani, cioè entrateci, vi lascio entrare nelle mie ferite. Lui ci fa entrare nelle sue ferite, perché in lui la ferita, e ce l'ha ancora, questo è bello, ce l'ha ancora, non è che la risoluzione le cancella, perché in lui la ferita è diventata generatrice di vita. Ci dice la Bibbia, dalle sue piaghe siamo stati guariti, cioè le sue ferite sono paradossalmente fonte di vita, e in lui lo possono diventare anche le nostre. Il Signore risorto, nel portare pace, vuole compiere un'operazione che solo lui può fare, perché è un'operazione unicamente divina. Entrare nelle nostre porte chiuse, dove ci sono le ferite più dolorose, pacificarle, spalancare porte, finestre, e fare entrare aria, l'aria dello Spirito Santo, l'aria dell'amore, l'aria della pace, l'aria che permette di aprire agli altri l'ingresso veramente in te, e a tua volta l'ingresso tuo nelle ferite altrui. Che poi la condivisione delle ferite è ciò che ci fa anche volere più bene gli uni gli altri, no? Ecco, il Signore può operare questo, può entrare e spalancare, e rendere anche le nostre ferite un'occasione di fecondità. Può renderci capaci di amare non senza le ferite, ma a partire dalle nostre ferite, no? O anche grazie a quelle, e trasformare anche i nostri vuoti in occasione di pienezza. Ma questa è un'operazione divina, la può fare solo lui, e mi sembra che oggi questo Vangelo ce lo voglia comunicare, che il Signore oggi ce lo voglia dire. Il Signore allora porta la pace in noi, vieni anche nelle mie porte chiuse, pacificale, perché solo tu lo puoi fare, io non ce la faccio, e fa che possano entrare e uscire il tuo amore e l'amore degli altri. E questo te lo chiedo anche per chi vicino a me è chiuso come in una noce in un guscio, perché tu possa spaccarlo. Buona domenica a tutti!